Allora, questa volta ti costringiamo all'intervista tenendo ancora sull'aquilone. Quattro regate belle toste, mi sembri un po' provata. Oggi, il terzo giorno si fa sentire, oggi altri quattro prove. Le prime due con vento abbastanza sostenuto e le ultime due con il vento un pochino più leggero, tanto che ho dovuto cambiare bene e metterla una un pochino più grande. Però quattro regate dentro i dieci, di cui la prima, sesto, il tuo miglior piazzamento sino a questo momento. Devi essere molto contento, navighi stabilmente nei dieci. Sì, non me l'aspettavo neanche io, sinceramente. Sono soddisfatta al massimo. Vediamo domani cosa verrà fuori, ma fino a oggi sono al massimo della felicità. Anche noi siamo molto contenti di averti conosciuto e di scoprire queste bellissime regate. Allora, domani, alla prossima. Grazie mille. Allora, a domani.